La foto di Silvano Bortolazzi, che è un poeta e uno scrittore di 38 anni di Recco. Perché ne parliamo? Ne parliamo perché è stato nominato dal Presidente della Repubblica Napolitano, cavaliere per meriti letterari, lo vedete in queste immagini, per la poesia in particolare. Si tratta di una onorificenza che è molto rare, che difficilmente viene data in giovane età. Bortolazzi si è classificato secondo al premio internazionale di poesia Agenda dei Poeti 2001, e medaglia aurea al merito letterario. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di confrontarsi con Edoardo Sanguinetti, tra i suoi libri di poesia, Lupo, L'artiglio dell'angelo, Blu Italiano. È stato inoltre selezionato come uno dei candidati al premio Viareggio per la poesia 2013. E naturalmente abbiamo dato volentieri questa notizia, perché anche la Liguria è terra di poeti, poeti naturalmente ai nostri giorni. Partiamo.